Il ponte collassa al passaggio del treno. Accade nel sud del Cile a un convoio in transito sul fiume Tolten. Il treno merci viaggiava in direzione di San José di Marichigne, quando il macchinista ha letteralmente sentito crollare la terra sotto i piedi. Sei vagoni carichi di clorato ed rossido di sodio sono finiti in acqua, ma per i vigili del fuoco non esiste alcun rischio per la salute pubblica.